Ciao a tutti, sono Giulio di Retro Gaming Bergamo, in versione senza barba, spettinato, ma soprattutto senza voce. Oggi voglio spiegarvi una cosa particolare, ovvero perché ce l'ho avuta così tanto con la Cabel, ho tirato tantissime offese dietro la Cabel negli ultimi giorni, perché sto facendo una piccola ricerca sulla Cabel che mi sta portando più o meno da nessuna parte. Ho avuto qualche risultato che ora vi dirò, ma sostanzialmente dovrò muovermi di persona per riuscire a trovare qualcosina. Prima di tutto in cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una delle prime case ad avere prodotto console in Italia. C'erano la Cabel, la Zanussi con il sottomarchio Seleco, c'era la Regione Elettronica. Regione Elettronica, è ancora più italiano. Insomma, c'erano diverse case e una di queste, tra l'altro anche piuttosto importante, era la Cabel. A Curno, la Cabel di Curno. Se cercate su Google sappiate che quello che troverete non sarà la Cabel di cui sto parlando io, ma un elettricista di Redona, ve lo dico perché sono già andato di persona cercando informazioni. E non è stato bello, anche perché non ha capito nemmeno di cosa gli stessi parlando in quel momento. Comunque, andiamo avanti. Cabel è un'azienda di cui si sa poco e niente per qualche strana ragione, ma di cui siamo certi dell'esistenza, anzi non solo dell'esistenza, ma addirittura della presa in considerazione a livello italiano, perché Cabel è citata addirittura nel fascicolo tra flessibilità e nuova imprenditorialità, edito nell'87 dalla Fondazione Agnelli, dove parlano di questa ditta che andava benissimo, che esportava tantissimo ed era fantastica. Nell'87, peccato che la Cabel sia fallita 5 anni dopo. Questo significa che la droga tra la famiglia Agnelli e la famiglia Elkan era una cosa comune già ben prima di Lapo. Comunque, Cabel è anche presente come citazione nel primo numero di videogiochi, quello del gennaio dell'83. Sì, Corbetta, sono andato sul tuo sito a cercare informazioni. Naturalmente, Cabel è una delle console, è uno dei marchi citati per le console più vendute del Natale 82, delle 5 console più vendute, e di queste 5 ne vengono recensite 4. Indovinate qual è quella non recensita? Quella della Cabel, giustamente, quindi altro buco nell'acqua. Ma andando avanti, le Cabel sono sostanzialmente delle Pong console, sono tutte a base Pong, tra le prime che erano semplicemente appunto delle console, con all'interno una scheda a circuiti discreti, quindi, circuiteria quella che si vede per intenderci, diciamo molto alla buona. Console con la cassetta che aveva all'interno la circuiteria e anche il sistema operativo, quindi la console sostanzialmente era inutile, serviva solamente come grossa base d'appoggio, e infine console con all'interno dei chip. Sappiamo che la Cabel ha prodotto roba del genere, si è sempre fermata comunque a dei sottopong, diciamo così, Pong e sottopong. Però, il problema è che ci sono pochissime informazioni. Io conosco la M2000, perché ce l'ho, grazie Michela, è sua. La M2000 di cui però l'internet guarda poco e niente, tutto quello che si sa è quello legato alla gente che la vende o che la cerca per collezionisti privati, che come sempre non vogliono rilasciare assolutamente informazioni perché dovrebbero sbattersi a smontare le console. non capiscono che se quelle informazioni diventassero di domino pubblico, le loro console acquisterebbero valore, ma facciamo finta di niente. Poi c'è l'Universal Game Computer, di cui sono sicuro del lancio nell'82, e ho addirittura descrizioni e schede tecniche. Peccato che l'Universal Game Computer sia un clone, sostanzialmente. A differenza della LEM, che era una console originale, anche se con progettazione all'estero, l'Universal Game Computer purtroppo è un clone dell'Interton. Nonostante tutto funzionava anche piuttosto bene, anche se, se non sbaglio, non era compatibile con le cartucce d'Interton. Infine ho una Telestar della Cabel. Non ce l'ho io, nel senso so che esiste, perché ho le immagini della Telestar della Cabel. E si riconosce anche dalle levette che sono uguali per tutte le console cable. Evidentemente avevano pochi soldi, oppure gli piacevano tantissimo le levette che si rompevano. Ma pazienza. Comunque, sappiamo di preciso che hanno otto queste tre console. In più la Cabel costruiva schermi, ne sono sicuro, perché non solo ho la foto di un monitor, ma c'è anche un pazzo, dalla zona sempre penso di Curno, che ha ricostruito un intero reparto produttivo della Cabel, ovvero quello che produceva televisori, solo che l'ha ricostruito in miniatura. Ed è una figata. Però lui è un pazzo e non ha zecca un congiuntivo neanche a pagarlo. Vabbè, sempre dettagli. Della Cabel, purtroppo io so questo. Per ora non sappiamo altro, ho mandato mail al comune di Curno, a breve vorrei andare in camera di commercio a capire quando è stata aperta la Cabel e quando è fallita la Cabel, o se si è trasferita. Ma poi mi sono anche fermato a cercare altre case. Ho indagato un po' sulla regione elettronica, scoprendo le varie REL, che sono altre ponconsole sempre italiane. E vabbè, ovviamente la più famosa di tutti, che è la Zanussi, che con Seleco ha fatto prima il Pingotronic e poi il Playotronic, che sono le console italiane nel mondo, il Pingotronic è la ponconsole italiana. Addirittura il Pingotronic dà la versione PP5, ovvero la quinta di dieci versioni, che sono sostanzialmente tutte identiche, dà la 5 però alla porta per la Lightgun. È stata una delle pochissime console insieme alla Magnavox, o Magnavox, come volete chiamarla. Io dico Magnavox perché lo dico l'americana, perché sono figo. Sarà una delle pochissime console ad avere appunto un ingresso Lightgun. Ho detto Lightgun. Sembro appena sbarcato. Ok, detto questo, vi aggiornavo solamente per farvi capire perché questi giorni sono infervorato sulle ponconsole. Ci saranno novità brevissime, molto, molto, molto breve. e nulla.